Ciao a tutti e benvenuti sul canale Excel Espresso. Questo video e a seguire i successivi saranno dedicati a tutti quelle persone che si approcciano per la prima volta ad Excel, fornendo le basi necessarie per poter utilizzare questo strumento con una certa dimestichezza e autonomia. Dopo la sigla scopriremo come si presenta la cartella di lavoro. Cliccando sull'applicazione di Excel si aprirà una schermata come questa, dalla quale sceglieremo una cartella di lavoro vuota che si presenta in questo modo. Sostanzialmente nella parte alta abbiamo la barra multifunzione che racchiude diverse schede. Abbiamo la scheda file, home, inserisci eccetera ed ognuna di esse ha diverse gruppi di comando. Facciamo un rapido esempio prendendo in considerazione il gruppo denominato carattere. Come potete vedere vengono visualizzate le principali operazioni che possiamo compiere sui caratteri che utilizzeremo all'interno del foglio di Excel. Nell'angolo in basso a destra dei gruppi di comando si trovano i pulsanti di visualizzazione con i quali possiamo aprire una finestra di dialogo dove troveremo informazioni aggiuntive. Cliccando su impostazioni carattere si aprirà una finestra di dialogo che ci permette di settare il tipo di carattere utilizzato, il suo colore, la dimensione e così via. Diamo ok. Subito sotto troviamo la casella dei nomi la quale ci indicherà tramite coordinate formate da lettere e da numeri dove ci troviamo nel foglio di lavoro Excel. In questo caso la casella selezionata è la A1. Alla sua destra troviamo la barra della formula nella quale verranno visualizzate le formule e le funzioni di Excel che andremo ad utilizzare. Nella parte centrale troviamo una griglia che rappresenta appunto l'area di lavoro nella quale andremo ad inserire i nostri dati ma non solo perché potremo aggiungere immagini, forme, grafici, tabelle e molto altro ancora. Queste celle hanno un'intestazione che si chiama appunto intestazione colonne e intestazione righe. Le colonne saranno sempre rappresentate da lettere mentre le righe saranno sempre rappresentate da numeri. L'intersezione di una colonna con una riga andrà a generare il riferimento della cella. Per esempio se andiamo a selezionare la cella D4 questo riferimento sarà riportato nella casella dei nomi come abbiamo già visto prima. Una cosa da tenere a mente è che il riferimento di una cella viene sempre definito prima con la lettera della colonna e poi con il numero di riga. Andiamo a vedere quale informazione ci sono nella parte bassa della cartella di lavoro. Troviamo subito il nome o i nomi dei fogli. All'apertura di una nuova cartella di lavoro Excel genera automaticamente di default un singolo foglio chiamato appunto foglio 1. Vedremo successivamente come aggiungere altri fogli e come personalizzare il loro nome e anche il loro colore. Alla sinistra del foglio 1 abbiamo delle freccette di navigazione le quale ci permettono di spostarci da un foglio all'altro. Mentre alla destra troviamo un più cerchiato il quale ci permetterà di aggiungere velocemente un nuovo foglio. Sempre in basso troviamo le barre di scorrimento orizzontale e la barra di scorrimento verticale con quali possiamo spaziare all'interno del foglio di lavoro. Tramite queste tre iconi quadrate è possibile modificare la visualizzazione del foglio da normale layout di pagina e anteprima interruzione di pagina. Successivamente vedremo più nello specifico a cosa servono. Infine il cursore di zoom il quale ci permette di ingrandire e di ridurre la visualizzazione del foglio di lavoro sullo schermo. La presentazione della cartella di lavoro è stata molto rapida ma ci ha dato un'idea di come sono distribuiti sullo schermo i vari comandi di Excel. Spero che il video sia stato utile. Se vi è piaciuto lasciate un like e condividete. Iscrivetevi al canale e attivate la campana di notifica per non perdere le prossime lezioni. Excel Espresso il modo più semplice e veloce per imparare ad usare Excel.